eccoci qua anteprime natale il brochet questo catalogo è valido dal 9 al 29 settembre 2024 quindi avete ancora tre giorni a disposizione per ordinare purtroppo il catalogo mi è arrivato solo oggi allora eccoci qua abbiamo edizioni limitate natale 2024 sono dei profumi orchidea vaniglia melagrana magnolia carité e la vite di castagna poi abbiamo il sete di natale A composto da allora abbiamo il balsamo labbra il sapone liquido mani la crema mani bagno doccia e cofanetto invece qui abbiamo il sete di natale sempre a allora questo scusate non c'è scritto il prezzo di questo strano comunque questo numero uno e non c'è il prezzo si sono dimenticati questo è il sete di natale 2 viene 49 e 95 e contiene allora il bagno doccia la crema mani bassa mo labbra e il christmas tree questo alberello qua poi a numero 3 abbiamo il gommage corpo melagrana magnolia il 4 è cica crema riparatrice carité e latte di castagna poi abbiamo la novità il kit scoperta melagrana magnolia bagno doccia gommage corpo latte corpo ah ecco è tutto insieme 49 e 95 scusate non ce l'ho arrivata andiamo avanti il set B allora il set B comprende il balsamo labbra balsamo mani latte corpo e il metal basket il sacchetto di metallo poi il numero 2 però scusate perché non c'è ma sarà 49 e 95 tutto quanto scusatemi tutto questo 49 e 95 eh dai il numero 2 questo set qua comprende il rossetto rouge elixir il metal house make up occhi con stilo occhi waterproof nero mascara intense metamorphose lo struccante rapido occhi e il metal house insomma la scatolina di metallo metal house vabbè poi il set di natale c sempre 49 e 95 comprende la valigetta cocco col bagno doccia col bagno doccia l'acqua profumata corpo corpo capelli la crema mani e la valigetta più il latte corpo melagrana e magnolia l'illuminante viso e decolleté e il Christmas ball carité e latte di castagna latte corpo olio doccia balsamo mani e il Christmas ball cioè per 49 e 95 tutte queste cose ragazzi direi che i prezzi rispetto agli anni scorsi sono scesi adesso vediamo più avanti come ci saranno sicuramente penso anche i set più grandi il set di comprende trus uomo con balsamo dopo barba la schiuma da barba il trattamento viso e barba e la trus velvet poi c'è il sapone mani melagrana e magnolia il gloss scintillante poi abbiamo il try me kit novità allora collezione solidi viso e capelli esplodante viso solido detergente viso solido shampoo solido e confezione sempre 49 e 95 sempre 49 e 95 set natale e abbiamo l'edizione limitata mascara intense metamorphose abbiamo il catalogo natale più la metal box la spugna struccante e questa metal box comprende il basso mamani carité e latte di castagna il sapone mani il bagno doccia il latte corpo nutriente carité e latte di castagna l'acqua profumata corpo e capelli l'olio doccia carité e latte di castagna il metal box e la spugna struccante poi il super set allora questo viene 199 e 95 e comprende praticamente tutti i set che abbiamo visto comprando questo set avrete in regalo una palette viso e occhi in edizione limitata per l'acquisto appunto del super set più il set speciale a pagina 14 e 15 quindi se acquistate tutti i set spendete 199 e 95 più vi viene in regalo questa trussa viso e occhi poi il set speciale ente prima il Natale abbiamo questa qui che è la novità Natale 2024 il Christmas Patch orchidee vaniglia che comprende l'acqua profumata corpo e capelli il bagno doccia la fragranza d'ambiente e il Christmas Patch questo qui invece comprende Essence Botanique Tendress Instance scusate il mio francese cioè l'olio corpo l'eau de parfum e la confezione a tutto questo insieme viene 99 e 95 poi al punto 3 qui abbiamo la truss make up occhi con l'eyline penarello nero scusate il Mascale Intense Metamorphose e il Velvet truss poi mi danno quattro cataloghi di Natale poi c'è il Vanity Lift Pro Collagen Day and Night che comprende la crema antirugher impolpante giorno che è una novità la crema antirughe effetto lift di notte che è una novità il Vanity e il Gua Sha cos'è il Gua Sha? Gua Sha ah sarà questo una spugnetta penso in regalo la palette viso e occhi in edizione limitata ecco questa palette viso e occhi ha nove ombretti da un grammo cada uno due farda da 3 grammi e un illuminante da 3 grammi valore del regalo 49,95 quindi ragazzi vedete è valido fino a 29 settembre 2024 quindi avete ancora 3 giorni di tempo per fare l'ordine scrivete nei commenti qui sotto grazie per aver visto questo video e ciao ciao